Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Nelle ultime ore della Repubblica Galattica, i grandi eserciti di Cloni giocarono un ruolo fondamentale nell'ascesa di Darth Sidious come Imperatore Supremo. I Cloni eseguirono il celebre Ordine 66 e andarono a tutti gli effetti a costituire l'esercito del Neonato Impero. I Cloni vennero smobilitati, la produzione fermata e l'Impero basò il suo esercito sull'arruolamento. Perché venne presa questa decisione? Vediamo di analizzare le molteplici motivazioni. A un primo sguardo sulla questione, la decisione dell'Impero potrebbe sembrare illogica. I Cloni erano soldati determinati e molto abili sul campo di battaglia, capaci di compiere azioni complesse e di vincere scontri anche in netta inferiorità numerica. Gli Assaltatori Imperiali, o Stormtrooper, hanno spesso fatto figure un po' magre, venendo sopraffatti da truppe inferiori in numero e in armamenti. In realtà l'Impero ebbe delle ragioni logiche e sensate per optare per questo cambio di rotta. Partiamo dalle motivazioni strettamente legate alla clonazione. Tutti i cloni impiegati dalla Repubblica nacquero nelle strutture di Camino, partendo dal materiale genetico fornito dal famoso Jango Fett. Per abbreviare i fisiologici tempi di crescita e di sviluppo, il DNA dei cloni venne alterato affinché invecchiassero a un ritmo accelerato. Ciò fu necessario per creare un grande esercito in tempi tutto sommato brevi, ma alla lunga andò a costituire un problema per l'esercito dell'Impero. Se un soldato non clone poteva prestare servizio per una ventina d'anni, un clone avrebbe potuto servire per un lasso di tempo inferiore, costringendo un ricambio molto più rapido nelle forze armate imperiali. Inoltre, il materiale genetico fornito da Jango Fett cominciò a deteriorarsi nel corso del tempo a causa dell'uso costante. Ciò avrebbe portato a cloni di qualità via via inferiore. Certo, si sarebbe potuto trovare un nuovo capostipite, ma il problema dell'invecchiamento veloce permaneva. A questo va aggiunto che l'Impero è sempre stato alquanto xenofobo, tanto da mettere ai vertici del governo e dell'esercito solo esseri umani. Pochi alieni scalarono le gerarchie, tra questi possiamo menzionare il grande ammiraglio Tron e pochi altri. In sintesi, l'Impero non si sarebbe nemmeno mai fidato completamente dei Kaminoani. Inoltre, Darth Sidious era ben conscio della possibilità di mettere protocolli dormienti nelle menti dei cloni. Lui stesso aveva usato questa tecnica. Chi gli assicurava che qualcun altro non avrebbe tentato una mossa simile? A questa serie di considerazioni va aggiunta un'altra importante motivazione, connessa direttamente alla stabilità dell'Impero. Quando il cancelliere Palpatine riorganizzò la Repubblica, trasformò un organo di governo basato sulla democrazia e sul dialogo su uno basato sulla paura e sulla repressione. Tuttavia, come tutti i regimi autoritari ben sanno, paura e repressione non bastano a rendere solido un governo tirannico. Serve anche la propaganda e il sostegno generale delle masse. L'Impero si impegnò sin da subito a mostrarsi come fautore di stabilità, sicurezza e benessere. Del resto la galassia era stata attraversata da anni di guerra e tensioni. Allo stesso tempo, l'Impero si mostrò come una grande opportunità di lavoro e di carriera, soprattutto in ambito militare. La possibilità di arruolarsi nelle file imperiali divenne una prospettiva allettante per migliaia di giovani in tutta la galassia, anche solo per sfuggire alla povertà o alla monotonia di una vita in qualche mondo sperduto. Lo stesso Luke Skywalker, all'inizio di Episodio 4, sogna di frequentare l'Accademia Imperiale, magari per diventare pilota. Anche nella serie animata Rebels, vediamo come il diventare cadetti imperiali fosse una bella prospettiva per i giovani umani della galassia. In poche parole, l'aspetto del consenso è cruciale per comprendere le motivazioni che spinsero l'Impero a passare dai cloni a uomini e donne comuni. L'esercito imperiale divenne anche una grande macchina di propaganda, un qualcosa da mostrare con orgoglio durante grandi parate, cerimonie e non solo. Ovviamente un esercito numericamente importante fu cruciale per l'Impero. Insurrezioni, rivolte e criminalità tennero spesso impegnati gli assaltatori e i piloti imperiali. Insomma, per assicurare maggiore stabilità interna, l'Impero puntò su un sistema di reclutamento capillare, figlio sia delle esigenze pratiche che strategiche che di opinione. Un terzo aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il lato economico. Nella serie animata Bad Batch, il tema della cessazione della produzione dei cloni viene trattato nel dettaglio. Tarkin, uno degli uomini più importanti della gerarchia imperiale, sostiene che i costi di produzione, crescita e addestramento dei cloni siano eccessivi, ragion per cui l'Impero ha più convenienza a chiudere gli stabilimenti di Camino arrestando il programma di clonazione. Attenzione, questo non significa che i cloni operativi nell'esercito imperiale in quel momento vennero mandati in pensione, semplicemente non ne vennero creati di nuovi. Questo aspetto economico della vicenda appare alquanto importante. Per le casse dell'Impero era più conveniente dover semplicemente addestrare e armare una recluta piuttosto che sfornare milioni su milioni di cloni a ciclo continuo. Anche la Repubblica era già al corrente del fatto che a livello di costi dello sforzo bellico i separatisti erano in netto vantaggio, grazie ai loro eserciti di droidi. Nella mente di Palpatine, i cloni non vennero ideati per far vincere la guerra ai Jedi e alla Repubblica. Furono uno strumento del suo piano, atto a sviare i Jedi impegnandoli sul campo di battaglia, salvo poi tradirli al momento opportuno. Le guerre dei cloni furono un gioco truccato sin dall'inizio, dove un'unica persona controllava ambo gli schieramenti. Una volta instaurato l'Impero, i cloni avevano ampiamente adempiuto al loro compito, potevano quindi lasciare spazio a ciò che era più conveniente per le casse del regime. Star Wars è anche questo. Star Wars è anche politica ed economia, non solo spade laser e battaglie spaziali, che vanno sempre bene e ci mancherebbe. Un'altra possibile motivazione che potrebbe aver spinto l'Impero a fermare tutto il programma clonazione fu il cambiamento che i cloni stessi subirono a seguito dell'Ordine 66. Questo aspetto è evidente soprattutto nella serie animata Clone Wars, la serie che per ovvie ragioni esplora di più la figura dei cloni. I cloni divennero molto più rigidi e inquadrati dopo l'attivazione dell'Ordine Anti-Jedi. Ciò potrebbe aver parzialmente compromesso la loro efficacia sul campo di battaglia. Un soldato flessibile e capace di reagire agli imprevisti è più efficace di uno rigido, che applica solo e soltanto i protocolli standard. Per questo motivo il singolo clone era nettamente superiore al singolo droide. Guardando la trilogia sequel, quindi episodio 7, episodio 8 e episodio 9, anche il primo ordine non impiegò assaltatori clonati, preferendo da un lato un sistema di reclutamento volontario e dall'altro rapendo uomini e donne che venivano poi indottrinati per obbedire ciecamente agli ordini del supremo leader Snow. Il primo ordine optò quindi per un sistema ibrido, dove l'aspetto di condizionamento mentale trovava comunque un certo spazio. Niente chip nel cervello, bensì un sistema atto ad alterare la mente delle reclute. Insomma, la scelta dell'impero alla fine risulta comprensibile e logica sia a livello politico che di stabilità interna che a livello economico. Certo, i cloni erano superiori agli stormtrooper anche perché combattevano dalla parte dei buoni, ma alla fine per l'impero era più conveniente avere 100 soldati mediocri a basso costo piuttosto che 20 soldati super efficaci ma dispendiosi a livello economico. Come dissi nel video dedicato ai separatisti, per vincere la guerra servono tre cose, soldi, soldi e ancora soldi. Questo adagio era ben fisso nella mente dei vari moff e gran moff imperiali. Una piccola postilla prima di chiudere il video, non tutti i soldati imperiali erano incapaci, l'impero addestrò comunque delle forze d'elite come i temibili ed efficienti Death Trooper, visti in Rogue One e anche in The Mandalorian. Siamo quindi giunti alla conclusione di questo video. Questo tema del passaggio dai cloni agli assaltatori reclutati è davvero molto interessante e mi è stato richiesto sotto un altro video dedicato a Star Wars, mi pare quello sugli inquisitori. Se anche voi avete richiesti o suggerimenti per altri temi da trattare, scriveteli pure nella sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no attivate la campanella, qui trovate già altri video dedicati a Star Wars e poi è anche sulla fantascienza in generale. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti qui su YouTube oppure PayPal e TP, link in descrizione. Sui social mi trovate come Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie!